Mi dia un gettone. Il telefono è guasto. E a me piace telefonare dai telefoni guasti. E io i gettoni non gliele do, va bene? E io telefono senza gettoni. Beh, ha telefonato? Giù la testa, coglioni! Il sollicito è stato effettuato sulla linea dell'utente desiderato. Lei è Nardini? Eh sì, sono io, sono io. Io sono quattro soldi, il capo collaudatore. Ma non era tre soldi? Ho aumentato il capitale. Ah, ecco. Il signor Lorenzo mi ha parlato di lei. Mi ha detto che si lamentava che la sua macchinetta c'ha un piccolo rumorino. Eh sì, e viene la... Vogliamo sentire subito di che cosa si tratta. Eh, prego, prego. Facciamo un piccolo giro di prova, eh? Sì, sì. S'accomodi. È certo che guido io, io sono il capo collaudatore. S'accomodi. Vuole i guanti? Senza guanti, senza guanti. Presto. S'accomodi. 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 questa macchina è un mistile glielo dice otto soldi non si preoccupi per il rumorino adesso ci penso io io sono il meccanico del giorno mi chiamano nove soldi adesso ci pensiamo apre il cofano non si preoccupi ma lo sai che c'è un bel motore chissà quanto l'avrà pagata è stato quasi un regalo del signor lorenzo sta con me io faccio dei favori a lui lui fa me e come si dice una mano lava l'altra e tutte e due si fregano l'asciugamano ma che fai mi svolta la pagina mi svolta la pagina ecco qua ecco lo butti con delicatezza e se stai azzetto mi lasci lavorare lei deve deve avere fiducia ecco qui guardi che bello sicuramente il vostro sarà qui eh eh far rida far rida vedrà ti aggiusterà tutto ma tutta l'asciugamano venga deve essere un rumore di carrozzeria però secondo me adesso vediamo avviamo forza sarani il sedine niente rumore no 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 non è il rumorino della carrozzerina no 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 però sono convinto che il rumorino non c'è più quanto vogliamo scommettere eh vogliamo scommettere venga qui venga qui coraggio coraggio su con la vita su con la vita mi dico una cosa lei ci sente bene sicuro facciamo la prova mi sente vediamo mi sente ci sente bene da tutte e due le orecchie beh si appoggi gomito così non respiri si rilassi adesso io giro la chiavetta se sente il rumorino mi avverta l'ha sentito il rumorino perfetto vittoria abbiamo vinto il rumorino non c'è più non c'è più venga qui venga qui è tutto facile venga qui si accomodi si accomodi ecco in pace guardi la sua macchina è tutta qui nessuno gliela può portare via è un razzo un missile eh arrivederci auguri ah se dovessi sentire qualche rumorino mi telefoni che io arrivo subito arrivederci auguri eh arrivederci auguri eh